Bella a tutti ragazzi e ragazze, qui Jaur, e oggi giocherò ad Undertale, parte 2. Lo scorso episodio, ammettiamolo, è stato un po' noiosetto, ma vi consiglio di guardarlo lo stesso, LOL. E volevo anche ringraziarvi per avermi già portato ai 10 iscritti, lo apprezzo veramente molto. Il prossimo traguardo è 69, e se ancora non lo sei, iscriviti e lasciare un like per questo bellissimo video. E dopo tutto, godetevi il video. E rieccoci ragazzi, ok, qua c'è una stanza, cos'è? Dice, prendine una, prendere una caramella, si, ha preso una caramella, premici per chiudere il menu, ah, ah, a posto, a posto, a posto, perfetto, perfetto. No, ce ne sono ancora. No, ma dai, è caduta raga. Ma posso essere così stupido? Prima cado da una montagna, e poi, dai, c'è un barato di caramella. Ah, era un puzzle, ok. Oddio, non dico lei. Mamma. Ciao, questa è Toreal. Per nessuna ragione particolare, che cosa preferisci? Cannella o mu? La mu? A me la mu piace. Oh, vedo, grazie veramente tanto. Ciao, questa è Toreal. Tu non odi la cannella, giusto? So qual è la tua preferenza, ma... Non ti estergeresti il naso se la trovassi in piatto. Ok, ok, capisco. Ma non mi senti nulla. Grazie per essere stato paziente, comunque. Ah, qua. Ok, cosa c'è scritto? 3, 4 rocce grigie, devi spostare. Agisci. Ah, ah, ah! Ah, posso, a posto, a posto, a posto. Nice. Ok, qua cosa... È un altro puzzle. Non mi dire. Eh... Così... Ah, io... No! Cosa dice qui? Non calpestare le foglie. Quindi, adesso, qui, e rovano. Ma! Ok. Va bene, va bene. Ah, ho capito un puzzle. Ah, c'è una parte che non si rompe. Ok, 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 ok. Ma dai! Ma nessuno ha trovato le mie foglie. Spaventa. Perché mi ricordo che da piccolo anche spaventavo molto il mio fratellino. Quindi questa è una rinascita dell'infanzia. Ok, quindi qua. Devo andare sopra. Qua cosa dice? Hai letto quello qui? Non c'era scritto. Ah! Gari! Ah! Ah, mannaggia. Ah, c'è una cosa. Ah, finalmente una. Qui. Qui. Ok, qui. Ah! Oh, ok. Perfetto. Provi. Perché tanto l'altro posso già risparmiare. Complimento. Complimento. Vabbè. Oh! No! Oh! No! Ma fanno una duo! Per risparmiati due gold. All'esco. GG. Ok. Passiamo di qua. Adesso. Qua sopra. Adesso dovrei passare di sotto. Di qui. Dai! Ma ti sembrava il momento! Andiamo sui tatti intanto. Consolo terrorizza. Terrorizza ancora di più. Fai. Scuote le tue braccia. E muove le tue. E... Dita. Wimsum si spaventa. Non posso mantenermi. Ah! Va bene, va bene. Per me è un consola. Nella tua prima parola. Wimsum. Si pulisce le lacrime. E corre via. Ah! Un altro modo per risparmiare. Questa volta mi ha dato il gold. Wow! Ah! C'era scritto. C'era scritto nel cartolo di prima. Dicevo. Che bisogna spostare solo due. Tre delle rocce. Tre delle quattro. Una era lì. Quindi. Oh! È lì. Chi ti ha detto che puoi spostarmi? Hmm. Quindi tu mi stai chiedendo di muovermi? Ok. Non so perché. Il zucco. Ah! Ma devo comunque... Ah! Vabbè. Ti sposto. Hmm. Tu vuoi che mi muova ancora di più? Eh, va bene. Come... Che dici? Schifoso. Ah! Quella era la direzione giusta. Ok. Credo di aver capito. A posto. Ah! Ah che? Oh! Limito. Tu. Scimmiotti. Mold. Smold. Tu senti di aver capito. Il mondo. Un po' meglio. Squatch. Come? Che cosa? Oh! 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 Ok. No 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 no. Sono mostruose queste cose. Mi impagano neanche un gold. Oh! Però! Oh! Ah! Tu vuoi? Che io stia lì? Tu mi fai lavorare troppo. Signore. Sei un sasso. Non dovresti manco muoverti. Mi sono toccasentare. Non sono facili le cose quando chiedi ba... Ok. Le chiedo scusa. No. La prossima volta sposterò solo tre sassi. Qua. Questo formaggio è rimasto da un po' di tempo. E in quel lato è il tavolo. Sul tavolo. Ok. Eh? Eh? Signore. Se si sposta per favore. Permesso. È russa. Sono andato. È andato? Questo fantasma continua a dire Z. Fingendo di dormire. Tu non... Muoverò con forza. Sì. Ti togli. E qua c'è Napsa Bluc. Eh... Ma che cosa ho fatto? Ehm... Provavo a fargli un complimento. Dai Napsa Bluc un sorriso paziente. Non me lo sento ora per favore. Scusa. Fai paura. Eh... Fare Napsa Bluc uno sguardo un po'... Forza. Fallo. Volevo dire un po'... Aia! Forza questo è funzionato meglio. Dici? A Napsa Bluc una barzelletta. Eh... No. Ok. Dai! Ah no! Eh... Sto bene, grazie. Oh. Ah. Ah. Da, 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 da. È bellissima la musica. Eh... Tengo a cuore, vai. Napsa Bluc vuole farti vedere qualcosa. Fammi provare. Scusa. Trocchiamo il Dapper Bluc. Ti piace, eh? Mmh. Carino. Ci sta bene. C'è bello. Dai! Ah ma... Sta andando... Sta andando piano. Eh... Ah. Sembra che... Dai. Oh mamma mia. Io normalmente vengo alle rovine perché non c'è nessuno. Ma oggi ho incontrato qualcuno speciale. Oh. Sto rimanendo qua ancora. E me ne vado dalla tua strada. Ma grazie. Eh... Qua cosa c'è? Oh? Spider Back Sale. Tutti i progetti... Lumenti... A veri... Eh? Lasciare... Ma è tutto il mio gold. Vabbè. Un po' di ragni sono arrivati e ti è andata una ciambella. Buono, buono. C'è la strada. Ah niente. È pubblicità per... Spider Back Sale. Ah, adesso mi dice che F4 mi fa fare il full screen. Perché cosa sta F4? Quattro rane? Ho visto il massimo tre in questa stanza. Beh, questo è un po' brutto dirlo alla fine. Eh, me lo dici adesso tu? Vegettoide. Eh, allora cosa facciamo? Divora! Provi a mangiare vegettoide. Ma non era ancora... Eh... No, no, no. Il gusto della macchina. Patate. Eh... Cena. Eh... Colpisci il tuo... La tua pancia. Vegettoide ti offre del cibo. Oh! Mi cura! Ma grazie. Aspetta, aspetta. Provo chiedere ancora. Mangia il tuo verde. Oh, come se sta andando già. Ring. Ciao. Eh... Io almeno sono accorto che sono stata un bel po' assente dopo che sono andato. Eh, non mi stavo aspettando una compagnia così presto. Sono un po' di cose qua e là. Puoi prendere, ma non prendere più di quanto ti serve. E magari un giorno trovi qualcosa che ti piace veramente. Tu vorrai andare via da tua stanza? E solo per quello. C'è solo un bottone. Eh, ragazzi. Oh, ma... Oh. Sai già cosa fare. Mangia il tuo verde, bio. Vai! Perfetto, signor lattuga. Per te una fragola, ma lol. Qui, era il bottone, come ho visto, all'altra stanza. Sì, qui. A posto. Nice. Qua. E dai! Nice. La ultima porta non è nascita. Ma marca la rotazione. Ah. Aspetto. Nessuno. Sono dei pulsanti. Nulla è successo. Cacchio. Ah. Vai. Questo mi ispira a fiducia. No! Dai. Ah, ma dall'inizio. Ma sei proprio cattivo, allora. Oh. Ma? Siamo seri? Lux e compagnia. Allora, vediamo Lux. Bulleggiare o non bulleggiare? Magari, finalmente qualcuno che... No, 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 no. No, 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 no. Ok. Vegetoide. Curami. Vai. Aia. Però se poi mi... Allora... Oh. Ma ha cominciato a sorridere. Ah, a posto. Ah, mi hanno anche bagato bene. Eeeh... Ma tu fai schifo. Allora, il giallo non è. Il rosso, vediamo il rosso. Sì. È questo. Ok. Ancora. Ok, a posto. Nice. Ok. C'è un croce fisso, non so perché. Cos'è? Io ho visto Toriel e... Andrò qua. Stava portando le verdure. Io non ho chiesto perché era qua. Era troppo... Era... Era... Era un troppo intimità per parlarla. Cos'è un coltello? Ma io devo fare la pacifist, ragazzi. Perché da come avete... Ho capito. Ci sono due finali in questo gioco. Oddio. Ci hai messo... Ci hai messo più di quanto dovessi. Come sei arrivato qua? Dico il bambino. Ti hai querito. Qua, qua. Vieni qua. Ti curo. Non ti dovevo lasciare lì per così tanto tempo. Era molto... Irresponsabile. Mi sorprendo in quel modo. Beh. Eh... Ah, mi hai spoilerato una sorpresa. Credo che... Non posso... Nasconderlo per un po' di tempo. Forza. Vieni qua piccolo. Ah. Ah. Merovina. Siamo a casa. Lo senti? Sorpresa. È... Una... Torta. E... L'ho preparato per... Celebrare il tuo arrivo. Voglio che... Tu mi va bene qui. Quindi... Ti ho preparato una torta al chumac per stasera. Qui. Un'altra sorpresa per te qua. Nel prossimo episodio. Ah. C'è... C'è...